Ladies and gentlemen, bando alle ciance, ciancio alle bande, Mr. Marra. Ciao Davide. Buongiorno ragazzi, veloci, veloci. Bravo, bravo, lo vedi? Io parto dall'assunto che Marra sia il tuo cognome, è corretto? No. Ah, figo! Dimmi che deriva da Pascoli. No, è il mio cognome. Ah, fanco. Io ho visto anche la tua avventura, il tuo sperimento artistico su Pornhub e ho pensato, dedotto da là, che Marra fosse uno stage name, quindi un nome d'arte, visto che c'è un passo del Pascoli che recita Ribatte le porche con la sua Marra paziente e io ho detto, ma vuoi vedere che è un'allegoria del pisello? Sai qual è il significato di Marra? Una sorta di zappa. Esatto, infatti credo che il parallelismo fosse quello. Ah, l'ho colto quindi. Già nella Divina Commedia c'è la Marra, che era la zappa. Mi ricordo che lessi banalmente un'intervista a Woody Allen, dove lo chiamavano Mr. Allen e io ho detto, vabbè, ok. Mr. Marra. Ho sempre volato basso. Mi pare giusto. Credo che il cinema mi abbia dato tanto e cerco di lanciare ogni tanto queste citazioni per stimolare un po' lo spettatore, no? In alcuni passaggi su uno dei video parli anche De Coppola. E esprimevi quella passione nel fatto che lui riuscisse a portare delle conversazioni tra personaggi piuttosto articolate, dense, più lunghe. Si prendeva un tempo narrativo. Quello che mi appassiona, riesci in qualche modo a portare questa tua passione anche nel Cerbero e portare magari riflessioni cinematografiche o filosofiche, se vuoi? A un certo punto mi sono reso conto che il podcast che facciamo su Twitch, che poi molti ovviamente non definiscono podcast per vari motivi e probabilmente hanno anche ragione, in realtà è stata più una scelta di marketing, ma non ha bisogno di questo incessantismo vocale perché c'è una componente visiva che può essere utilizzata. Se io metto le mani in un certo modo, se guardo la camera, se mi prendo un attimo quel secondo per stare zitto e lo faccio nel modo corretto, la gente alza la sua soglia di attenzione. Quando invece parli a macchinetta, tendenzialmente tende a rimuovere dei concetti. Quando comincia il tuo silenzio, finisce quello di Dio. Anche momenti in cui alimenti un po' l'imbarazzo, il cosiddetto cringe, leggendo un commento poi rimanendo in silenzio, reagendo a qualcosa, rimanendo in silenzio in realtà poi è una cosa che fanno e facevano in passato tutti i migliori oratori. Molto spesso noi cerchiamo di costruire una puntata con l'intento di creare un evento. Se tu vedi una partita o un concerto, il live è una cosa. Se ti vedi la replica, la registrazione postuma è un'altra. A me ha colpito molto quando ti ho sentito dire che i tuoi compagni di viaggio, che erano un po' più affermati numericamente, dico su YouTube, avesse una fanbase da mezzo milione, però le prime live le facevate con 50 persone. Che se pensiamo ai numeri che foggi il cerbero, è difficile da credere, no? È una cosa dei nostri tempi. Adesso chi lavora sul web deve fare i conti con la difficoltà nella conversione dell'utenza. Quando hai capito, se te lo ricordi, il punto in cui hai detto, ok, come se dice a Roma, l'avemmo imboccata? Il momento in cui io e Simone abbiamo deciso di trasferirci, vi spiego. Inizialmente io andavo a casa di Simone o a casa di Gianluca o tutti andavamo a casa di Gianluca, cioè ci spostavamo per fare queste live. Ovviamente era un disastro perché dal punto di vista dei tempi era drammatico. Abbiamo rischiato, abbiamo detto prendiamoci una casa in affitto e spingiamo, facciamo due dirette al giorno. Quindi già lì c'era questa consapevolezza che lo show probabilmente avrebbe funzionato. Ci sono stati vari boom, cioè funziona così solitamente sul web. Tu fai sempre, devi lavorare sull'incessantismo, cioè fai live, 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 anche quando vedi che non ci sono risultati. Poi magari cresci piano, 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 questa cosa può anche scoraggiarti e poi arrivano dei momenti in cui c'è la famosa botta di culo e io definisco tale soltanto in termini di tempi, cioè la botta di culo può arrivare prima o può arrivare dopo, ma se tu hai le capacità e lavori costantemente prima o poi sei in quello spot, ok? Sei nella possibilità di ricevere la fortuna, cioè il video che ti va virale, la diretta che ti va meglio, eccetera. Noi abbiamo avuto, diciamo, la prima storica faida con Cimetarab, anche il meme di Joker, calciatori senza denti diventò super vitale. E poi un altro boom furono i Boscar, che è stato un evento senza precedenti su Twitch, nonostante il tutto era una roba molto casalinga. Poi ovviamente c'è stata con la quarantena l'esplosione definitiva. C'è una cosa che mi ha sempre colpito del Cerbero, avete due capacità che secondo me non sono state abbastanza lodate da chi ha analizzato la fenomenologia del Cerbero. Quella di creare personaggi, mi viene in mente Jordan per esempio, boom, avete creato un personaggio, inconsapevolmente perlopiù, però intanto l'avete creato. Jordan, l'hai preso ad esempio. Noi facevamo una diretta con Cane Secco e il rapper, venne assieme a questo Dave, questo ragazzo, si mise dietro nel letto di Flame mentre parlavamo con Cane Secco e non intervenne praticamente mai in quella diretta. Però aveva una peculiarità, questo cappellino con scritto Jordan. E la chat era paradossalmente più interessata a questo ragazzo sullo sfondo e quindi a un certo punto è stata la chat a voler sapere di più. Il problema è saper distinguere tra un meme così momentaneo ed è un qualcosa che può diventare forte. Siamo semplicemente dei manipolatori di questa nostra creazione. Io poi quella sera tornai con Dave e parlammo per ore. E quindi ho detto, cazzo, questo è un ragazzo che vale, mo lo porto in trasmissione, facciamo una live io e lui e chiacchieriamo e basta. Aneddoti, musica. Noi semplicemente abbiamo creato un'opportunità, via. Mi ricorda molto un approccio stile cecchietto riportato su Twitch. Cioè io non è che vado a caso e ho la botta di culo, ma ne analizzo e dei tanti, magari anche non famosi, trovo quello che ha una capacità che può funzionare. Cioè la chiacchiera che ti sei fatto peore è perché lui è interessante, altrimenti con tante altre persone magari in te ci sei più sentito pure volendo. La mia domanda è più intima. Tu nel Cerbero ti senti libero? La libertà assoluta non esiste. Noi lavoriamo sempre all'interno di schemi. Il Cerbero è uno schema. So quali sono le regole di questo schema e cerco di andare sempre anche nei limiti. Non vado mai oltre quello che è il limite per un discorso di regolamentazione della piattaforma, per un discorso di fruibilità del prodotto, anche di pubblico. Cioè se io mi mettessi a parlare quattro ore di fila, l'ho fatto ogni tanto per carità, solo di cinema, sarebbe un qualcosa non adatto agli spettatori del Cerbero. Mi piace molto il contraddittorio Goffride. Esempio Scarcella. Cioè se trovava davanti a un mostro sacro che comunque ti asfalta. E voi gli avete dato la possibilità di. Ma secondo te è giusto dare voce a tutti o c'hai delle discriminanti? Cioè c'è là delle analisi con cui scartà o tutti quanti possono intervenire? Ma è giusto dare voce a tutti. Se ci sono degli elementi problematici, devi contestarli. No, no, no. Nell'odio gratuito, eccetera, a quel punto, se ospiti una persona che si metta ad incitare odio, eccetera, prendi e cacci. Ovviamente noi abbiamo un limite, come mi chiedevi tu, cioè tendiamo a non invitare persone in campi sui quali non siamo assolutamente competenti se hanno un'opinione divergente, ad esempio nella scienza. Cioè io non mi sognerei mai di invitare uno scienziato che ha una sua particolare idea sui vaccini, perché non saprei contestarla. Parli abbastanza spesso dei Pasolini. Io amo Pierpaolo Pasolini. Tipo i libri come Ragazzi de Vita o Petrolio, c'è un modo in cui si interpretano personaggi che di base stanno in un ecosistema tranquillo e poi insorgono. Cioè quindi l'occasione fa l'uomo ladro. È capitato soprattutto prima quando c'avate meno rapporto con la chat o magari, se non lo so, era a me più fuori controllo che la chat prendeva quasi il sopravvento come personaggio, anche a livello, non te dico d'offese, ma quasi. Beh, all'inizio a me è successo, proprio perché non padroneggiavo il mezzo e nei primi mesi del Cerbero io ricevetti comunque una pesante ingerenza da parte della chat, perché anche giustamente avevo un atteggiamento molto supponente, se lo sono adesso figuratevi prima. Quindi la chat, anche perché ero l'ultimo arrivato, no? Cioè ero l'amico di... Mi è servita proprio nella vita, eh. Lì parlavamo di 100 persone, adesso sono 6.000. Hai notato come... Occhio alla cazzata! Sono migliorati anche i tuoi tatuaggi, con il lavoro che hai fatto sulla tua individualità. Da amante dei tatuaggi io ho visto un'evoluzione anche del tuo corpo, in termini di abbellimento, che è lo specchio, a mio avviso, di un lavoro che stai facendo pubblicamente su te stesso. Questa è un'ottima riflessione, secondo me si può allargare anche al lavoro che fai sul tuo corpo, ad esempio allenandolo. Inconsciamente tu fai questo processo, poi ovviamente non bisogna scadere nell'estetica fine a se stessa, cioè tu puoi avere un corpo meraviglioso, e c'è stato un momento della mia vita in cui avevo un corpo esteticamente perfetto, ma avevo sacrificato tutto, quindi ero diventato un po' un guscio vuoto. Lo stesso può essere per i tatuaggi, magari puoi avere un corpo con i tatuaggi più belli della galassia, però insomma sono cose che rimangono così, soltanto un vezzo. Per esempio al caso di Mirko Scarcella, che prima ha citato Sandro, ecco io credo voi nella vostra live abbiate conferito dignità alla sua storia. Hai capito perfettamente tutto, molti ci hanno anche criticato per questa cosa, ci hanno detto leccate il culo a Scarcella, è un pezzo di merda, secondo me la possibilità anche di replica deve esistere, altrimenti ci troviamo in un posto che è il Far West. La cosa che secondo me hanno fatto bene loro è che dovrebbe ripassare al di là di Cerbero, ma nella nostra società, è che se tu dà il contraddittorio, non appoggi il contraddittorio, cioè tu stai a far trovega, cioè tu non sei amico di Scarcella. Poi che lui abbia le sue colpe, dal mio punto di vista è in dubbio. C'è a scuro di noi, è più Giuda che Gesù Cristo nella sua vita, c'è chi di voi nella vita non l'ha mai sbagliato, non l'hai tradito? Io in prima linea. Parlando di un altro tuo artereco che a me affascina per come lo presenti, che è Mister Casanova, a me mi affascina il fatto che tu lo proponi non come concetto di creazione di contenuto pornografico, ma come una sorta, cioè io da artista anche, la vedo come una sorta di performance live artistica in cui ti dico io vado a riprendermi la mia libertà provocando. Inizialmente io ho creato tre personalità. Le ho create un po' come barriera, probabilmente anche come gestione degli spazi, dei contesti, no? Davide è veramente la versione più intima. Poi c'è Mister Marra, che è quello che vedete al cerbero, quindi le idee di Davide sono quelle, però in chiave show. Mister Casanova è il personaggio che ho creato per provocare, essenzialmente, e anche per lasciare un po' più tranquilla questa mia componente anche, diciamo, di sessualità. Dopo due anni e mezzo, queste tre entità si sono un po' fuse. Era difficile, impensabile, partire subito con il Davide performante. L'uomo non è mai se stesso quando parla in prima persona, mettetegli una maschera e vi dirà la verità. La maschera, quindi la finzione artistica che noi costruiamo, è la parte più autentica che raramente riesce a esprimersi nel quotidiano. Noi cambiamo sempre, ok, maschera, perché i contesti sono diversi. Volevo sapere, cioè, come se te la vivi bene, questa libertà che cerchi, o che vuoi manifestare o provocare, o se ne soffri nei contesti? No, me la vivo molto bene, riesco a... credo di avere una buona capacità di adattamento. Cioè, io so dove posso spingermi. Sono abbastanza camaleontico, questa è una caratteristica che mi ha trasmesso mio padre. Tu sei consapevole di quali sono quegli ingredienti che fanno funzionare così bene il cerbero? È difficile perché il cerbero è modellato sulle nostre personalità. E infatti molto spesso le repliche sono imbarazzanti. Ma non perché loro, i replicanti, siano meno intelligenti o meno bravi di noi, ma perché tentano di copiare una personalità. Come fai? Questo è l'errore più grande, secondo me. Cioè, la gente pensa che il cerbero funzioni perché siamo provocatori, perché urliamo, perché parliamo di altri. L'unica cosa, secondo me, che si può imitare è la persistenza. Che cosa ti ha portato invece a interrompere la content creation su Pornhub? Perché io pensavo di trovarci più roba. Ma guarda, in realtà, quella è stata... Ma non vorrei definire la provocazione. In realtà, quasi una rivendicazione della mia libertà. Quindi ho detto, ma sì, facciamolo. Cioè, in realtà, era più che altro un gioco per me. Questa cosa, diciamo, che è andata un po' così nel dimenticatoio, perché non ho avuto più grande interesse. Io ho messo pure un inside joke nel primo, eh. Cioè, nel primo porno, ho messo una luce che utilizzavamo in una vecchia postazione del cerbo, che era quella con tanti colori. L'easter egg. La chat è esattamente una bestia strana. Alle volte è una bestia al tuo servizio, se così si può dire, potentissima. Altre volte si ribella al padrone e ti azzanna. Ovviamente è difficilissimo integrarla. Quindi, che succede? Che la chat diventa quasi un flusso unico. Però, in questo senso, replica un po' il pubblico che sta assistendo ad un concerto, ad uno spettacolo teatrale. Quindi, a volte vedi quello che tira la bottiglia in chat e magari o lo sospendi oppure lo blasti, no? Però, solitamente, ci sono gli applausi o fischi. No, ma alle volte poi la chat riesce a creare dei meme. Dici una parola o una frase bislacca e cominciano a scrivere in 300 e questa diventa un meme. Anche perché voi avete un potere che immagino sappiate ma, cioè, state a rivoluzionare una parte di dizionario che da Roma esce fuori e va in Italia. Cioè, Grevezi, tipo, è top deve, sta roba, la gente ha iniziato a fuori. Sì, sì, io ho molti parenti in Abruzzo, in Abruzzo, vedi un gruppo di ragazzi che appunto parlavano così, oh, Grevezi, ma non sa, erano abbostesi, quindi. Senti, caro Tiger King, alias, aka, caro Davide Marra, aka Mr. Casanova, io non voglio abusare oltre della tua generosità, ti ringrazio, spero tu sia stato bene a dialogare con noi, so che hai creato grande valore, grazie, grazie di cuore per questo tempo che ci hai concesso. Grazie a voi e volevo farvi complimenti perché comunque sappiate che ho accettato di venire qui perché vi trovo molto validi, quindi ho visto un po' di cose vostre, ho detto questi sono veramente interessanti, sono forti, quindi ci vado con un grandissimo piacere. Quindi da, continuate così, alla prossima, ci si becca. Grazie di cuore. Grazie, grazie mille. Ciao, grazie. Quanto è stata bella. Bellissimo. Ehi la la, grazie per essere iscritti al canale, Cerbero Podcast, grazie. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.